Allora, io mi chiamo Paola, sono del 1932. Questo periodo del fascismo l'ho già vissuto. Questa importi le cose. Io ero l'unica bambina della scuola della Leonardo da Vinci di Milano che non ha mai avuto la divisa da piccola italiana. Mio papà non ha mai voluto la tessera fascista e sono ancora viva. Abbiamo lottato e abbiamo resistito.